ma prendete un artista egli desidera dipingere il più sognante il più ombroso il più tranquillo il più incantevole paesaggio romantico di tutta la vallata del saco qual è l'elemento essenziale che adopera ecco i suoi alberi ciascuno col tronco cavo come se dentro ci fossero un'eremita e un crocefisso ecco qui dorme il praticello e là dorme il gregge e su da quella casetta si innalza un fumo sonnacchioso ma per quanto la scena giaccia così è statica e il pino scuota giù i suoi sospiri come foglie sulla testa del pastore tutto sarebbe in vano se l'occhio del pastore non fissasse la magica corrente che ha davanti andate a visitare le praterie in giugno quando per ventine di miglia voi sprofondate fino al ginocchio nei gigli tigrati qual è l'unica dolcezza che manca l'acqua non c'è una goccia d'acqua in quei luoghi se il niagara fosse soltanto una cascata di sabbia lo fareste voi quel viaggio di mille miglia per andarlo a vedere perché quasi ogni ragazzo sano e robusto che abbia dentro di sé uno spirito sano e robusto prima o poi ammattisce dalla voglia di mettersi in mare perché al tempo del vostro primo viaggio come passeggero avete sentito in voi un tal brivido mistico non appena vi hanno detto che la nave e voi stesso eravate fuori vista da terra certamente tutto ciò non è senza significato e ancora più profondo di significato ecco il racconto di narciso che non potendo stringere l'immagine tormentosa e soave che vedeva nella fonte vi si tuffò e annegò ma quella stessa immagine noi la vediamo in tutti i fiumi e negli oceani essa è l'immagine dell'inafferrabile fantasma della vita e questo è la chiave di tutto